benvenuto a trampa non so come ti diciamo tu però io ti ho detto di una cosa e te da così bravo complimenti e tanti auguri però tu sappi che io io barracca obama sono più c'è di mano di te e questo non me ne durrà manca mentoate queste cose perché tu già la sai beh cosa aggiungo a te perché questo luogo aggiungo molto abbellata e aggiungo molto un bel di passione però io so sempre più c'è di mano di te beh è normale sono un edu tutto canto non so quant'è di più di tanto e non mettevi giù a così mi sa faccia di macco che vai non mettevi guardare così mi con quella faccia di vitrullio che hai